Colpiscono ovunque, in città, a Campobasso, dalla periferia al centro, i ladri in azione di giorno e di notte. I cittadini non sono tranquilli, i malviventi agiscono con velocità, sono esperti in quello che fanno. L'ultimo colpo, uno dei tanti, in un appartamento nel quartiere San Giovanni. Il proprietario era uscito, di mattina aveva chiuso la porta blindata, come sempre. Cinque giri di chiave al ritorno aperto regolarmente. Una volta in camera da letto, tutto era a suo quadro, cassetti aperti, armadi, tutto a terra. Poi lo sguardo verso il quadro era stato spostato e dove dietro di esso c'era la cassaforte, solo un buco. Chi era entrato l'ha portata via con tutto il contenuto. L'ha messa nel secchio della spazzatura dopo averlo svuotato. Per il proprietario un danno anche psicologico perché gli oggetti rubati sono legati agli affetti. Immediata la denuncia. Sul posto la polizia, la scientifica per i rilievi. Si indaga anche per capire se ci sono basisti. La tecnica usata è in più casi già quella della cosiddetta chiave bulgara. Uno strumento che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a doppia mappa senza avere quella originale, senza smontare la serratura della porta blindata. Il grimaldello bulgaro può essere composto da due attrezzi, un tensore e una chiave morbida o solo da uno che integra entrambi. Il tensore mette in tensione il carrello della serratura normalmente, dopodiché si inserisce la chiave morbida compatibile con quella originale con denti che hanno la possibilità di muoversi. Scuotendo leggermente tensore e chiave morbida, le vibrazioni muovono i denti di quest'ultima fino a fargli assumere la posizione corrispondente a quella dei denti della chiave originale. Si ottiene così il profilo di una metà della chiave a doppia mappa. Per l'altra metà, si ripete l'operazione. A questo punto si ha a disposizione un profilo a doppia mappa completo in grado di aprire e chiudere la serratura esattamente come la chiave originale, senza scasso ma soprattutto senza lasciare alcuna traccia dal momento che l'ospite indesiderato potrebbe addirittura richiudere a chiave la serratura come accaduto a Campobasso, dove i ladri sono entrati senza che nessuno abbia sentito nulla, agendo indisturbati. Grazie.